Dopo l'intervento dell'Ordine degli Ingegneri e quello della sezione aquilana dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili sul secondo comma dell'articolo 11 del decreto antilocali, il quale anticipa parte delle norme introdotte nel disegno di legge Pezzopane sulla ricostruzione, è proprio la senatrice aquilana del Partito Democratico che interviene a placare gli animi. Al centro del dibattito ci sarebbe infatti la disposizione secondo la quale progettisti e ditte che abbiano avuto rapporti di collaborazione negli ultimi tre anni sarebbero incompatibili per i contratti che riguardano la ricostruzione. Una norma che di fatto apre il mercato a tutta una serie di imprese operanti all'esterno dei confini regionali e che non farebbe dunque bene all'economia del territorio. Ma la senatrice Pezzopane dice di aver concordato un incontro con il sottosegretario De Micheli nei prossimi giorni per migliorare il decreto del governo. Venerdì mattina in regione ci sarà anche un incontro con il vicepresidente Lolli, categorie e sindacati per fare il punto sui passaggi successivi. E ribadisce la senatrice Pezzopane, il lavoro dei mesi scorsi e i tavoli con tutti i soggetti coinvolti alla stesura del DDL non solo sono stati fruttuosi, ma ci consentiranno di aprire un confronto con il governo sul decreto partendo già da una piattaforma consolidata e condivisa. Il decreto legge antilocali e l'articolo 11 che riguarda la ricostruzione sono sicuramente un segnale d'attenzione da parte del governo, tuttavia il testo è ancora parziale e contiene gravi errori. Tanto che sul testo dell'intero decreto è intervenuta anche l'autorità anticorruzione con propri articoli. E anche la senatrice infatti riconosce che la norma contestata da ance ed ordini professionali penalizzerebbe le imprese locali a vantaggio di quelle fuori regione. Ma si tratterebbe solo di un regurgito, dice, riemerso dalle pieghe dei vecchi testi normativi proposti dagli uffici dei ministeri, caro probabilmente a qualche burocrate ma che nulla ha a che vedere con quanto concordato ed inserito nel disegno di legge. Grazie a tutti.